Ciao ragazzi, queste sono le live reaction, le mie live reaction di Juventus Milan, godetevele! C'è Di Bala, gol cazzo vai, che gol ragazzi, papera di Donnarumma, papera di Donnarumma enorme, questa è una papera di Donnarumma ma non me ne frega assolutamente niente, non me ne frega assolutamente niente la porta si è mossa, 1-0 Juve, Paulino Di Bala. C'è quale, oh, ciao, chissà che lo so, no, no, non ce l'ho a nullare, non ce l'ho a nullare che diventa una bestia, vengo lì, eh, vengo lì, amore vuoi fare una bestia fino a Torino? C'era nulla, mi cazzo veramente come una bestia, era in fuorigioco Chedina, scommetti che io ho nulla, scommetti, scommetti, vedrai, vedrai adesso, vedrai, chi chiama il VAR, bravo Juan intanto. Cotto, trotto, trotto, è un gol, gol, che dirò, che dirò, che dirò, che gol ragazzi, è finita, è finita, è finita, giudicoso, è finita così, più 4, più 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, non vai più sotto la curva a fare così? Non vai più a fare così sotto la curva? A me va bene, ogni partita che giochi a casa nostra, tu fai così e poi te, te. A me va bene, ogni partita che giochi a casa nostra, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita. Grazie.